A Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, stiamo a preparare un spray mento, come vedete, proprio quella Light Pimentus. Sappiamo che... Light Pimentus vuole ingrasciare. Guarda qui, guarda qui. Tutto il cuore è simozionizzato. Vediamo, eh... Io Mastra, è verino. Sì, vero, è patata per me. Ok, ve lo state per vedere. Una reazione chimica fra mentus e questa cosa. Prodifatto, l'ha rimborsato. Perché no? Alla salute! Amici aspettatori della Favret Industria Cooperation, qua è il DJ Gino che parla e vi sta facendo notare le immagini. Guardate Baggin, eccolo qua il DJ, bellissimo. Allora, attenzione, si può vedere qua Favret che, nome d'arte, sta montando nel suo mitico aggeggio per le mentos. Lo sta montando per poi metterlo nella cima della bottiglia di Coca-Cola. Attenzione, guardate l'attimo, le mani con cui le fa entrare, signori. Momenti decennali che verranno ricordate sulla storia di YouTube. Adesso le sta mettendo tutte. Le ha messe. Fino all'ora, ne ha avanzata una. Una me e una DJ Gino. DJ della notte. DJ Gino, prendila. Bravo DJ Gino. Siamo, la apre, per permetterla. La posizione, la partita, il battuto con il DJ, è l'inizio come il DJ. Attenzione, la mente, che l'immagine, è sì. Il Favret, il Favret, il Favret, il Favret, il Favret, il Favret. Guarda, grande. Un applauso. Stop.